Ah, questi rampicanti sono davvero come degli spaghetti! Mi hai appena fatto venire un'idea gastronomica, Pico! Ci vediamo al fienile! Cosa starà preparando lì dentro? Lo vedremo! Wow, Dot! Ma è fantastico! E aspetta di vederlo in azione! Proviamolo! A presto ci penso io! Il sud è da questa parte! Devi andare sempre dritta! Non credevo che ce l'avrebbe fatta! Devo essermi sbagliata di nuovo! Sono un pochino fuori allenamento! Me la sono spassata troppo quest'estate! Summer! Ho un'idea per aiutare Ruby a volare dritta! Wow! È la prima volta che Todd inventa qualcosa per me! Di nuovo quel vento freddo? Ho qualcosa per te, Ruby! Una bussola che puoi seguire quando sei in volo! La freccia rossa indica il nord! Segui quella blu e arriverai al sud! Grazie, Todd! La proverò immediatamente! Funziona! Che freddo! Ho portato la frutta! Oh no! Tutte quelle albicocche andavano nel gelato! La macchina si è rotta! Tranquillo, Pico! Vorrà dire che cambieremo strategia! Torno subito! Possiamo usare questi per mescolare il latte a mano! Amici, è stata colpa mia! Lasciate fare a me! Eh? Eh? Ma quanto manca ancora? Mi sta venendo fame! Oh, anche a me! Dobbiamo controllare il gelato! Almeno questa macchina funziona ancora! Vado a prendere altra frutta per il gelato e uno spuntino, visto che ci sta venendo fame! Se ne è tornato! Oh no! Quindi adesso abbiamo gelato al burro di arachidi, banane e cracker! Si è rotta anche questa macchina e fa troppo caldo, Todd! Come ce la caveremo senza gelato? Sono tornata! Perché siete tutti così tristi? Abbiamo rotto le tue macchine e aggiunto tutti gli ingredienti sbagliati! E ora non avremo neanche il gelato per rinfrescarci! Mi dispiace, Molly! È tutta colpa mia! A dirla tutta, Pico! Questa è la nostra occasione per iniziare da capo e fare anche di meglio! Oh! Ta-da! Ecco fatto! Come nuova! E adesso è ancora più potente di prima! La beveratoia è proprio qui dietro! Voglio controllare l'acqua! Oh no! Che c'è qui dentro? L'acqua è blu per colpa di questi petali! Ma perché ce ne sono così tanti? Sono i fiori di una pianta che si chiama Amarosa bluette! E non fa bene alle mucche! Amici! Guardati! È proprio lì! Ecco il problema! Dobbiamo risolverlo! È in fretta anche! Metterò una rete in modo che i petali non cadano più a terra! Ehi, Summer! Prendi! Evviva! Ottimo! Dovrebbe andare! Bene! Ora le mucche avranno solo acqua limpida e pulita! Segui le avventure dell'Allegra Fattoria su YouTube! Sub!